etty fissava l'aiola dove scivolava l'ombra delle nuvole alzò gli occhi e vide class la guardava dalla bicicletta un piede sul pedale e l'altro per terra etty disse lui senza cerare il disappunto hai la curiosità erotica di una salomè etty era seduto in un caffè in compagnia di un uomo molto più anziano di lei class ne abbiamo già parlato disse con una leggera irritazione sì ma sono ugualmente deluso class sapeva che etty vedeva l'esclusività sessuale come un ostacolo all'esplorazione della propria identità ma il saperlo non lo aiutava lei portò alla bocca la sua cioccolata fumante il problema della nostra relazione class è che tu sei geloso io golosa con il cucchiaino pulì il fondo della tazza in quanto a te disse rivolgendosi all'uomo di fianco hai qualcosa da dire? dilla ora l'altro la guardò sorridendo anche class ora sembrava divertito beh che c'è chiesa etty con quell'aria indagatrice dolce ma ferma che faceva innamorare tutti class le fece un cenno con d'indice etty si specchiò nella vetrina del caffè e vide che aveva due baffi di cioccolata sopra il labbro superiore fin quasi all'attaccatura del naso che bello disse battendo le mani due baffi alla dostoievski che ho sempre desiderati tutti e tre risero e class seppur riluttante accettò l'offerta di una tazza di cioccolata etty studiava giurisprudenza ma aveva la passione per la letteratura era capace di trascorrere intere mattinate traducendo qualche breve passaggio di un romanzo russo alla ricerca del ritmo perfetto amava svegliarsi all'alba e restare distesa nel letto a godersi i raggi del sole filtrare nella penombra e indorare ogni cosa si crogiolava tra le coperte pesanti rimandando il distacco dal calduccio infine s'alzava e dopo essersi lavata e aver fatto colazione sedeva alla scrivania e capitava di andare avanti a scrivere fino all'ora di pranzo senza accorgersi dello scorrere del tempo se fosse sempre così pensava se potessi applicarmi alle cose con tanta intensità ogni giorno che vita meravigliosa sarebbe la scrivania presentava cassetti e serrature che facevano pensare a segreti gelosamente custoditi la sede intarsiata era molto vecchia e etty aveva l'impressione che scricchiolando le desse il benvenuto condivideva un appartamento in un piccolo palazzo di Amsterdam mattoni rossi, finestre suddivise in riquadri di piombo portone dai toni chiari, pianerottoli di granito e scala luminosa davanti al portone esterno c'era un piccolo giardino il cui gelsomino era una delle gioie di etty dio ha fatto il mondo a sua immagine e somiglianza pensava ammirandolo amava Amsterdam i riflessi del sole balluginanti nel pulviscolo dei canali i negozi odoranti di spezie e ringhi affumicate di cuoio lavorato e ferraglia arruginita lo spettacolo domenicale la incantava i uomini picchiettavano la strada con il bastone le donne roteavano il parasole appoggiato a una spalla i bambini correvano chiassosi avanti e indietro a etty bastava guardarli per gioire tuttavia la sua passione era la campagna dove faceva lunghe passeggiate solitarie le strade tra i campi si estendevano dritte sotto un cielo così limpido da poter contare i passanti in lontananza ogni cosa era pacata anche lo scampanellio delle biciclette etty amava le dali arancioni i cui petri serpeggianti le ricordavano van gogh e si inebriava del contatto con la corteccia nodosa degli alberi ammirava da vicino l'acqua dello gissel i mulini i campi a perdita d'occhio nell'accogliere in sé tutto questo etty sentiva il desiderio di genuflettersi davanti a dio ma non si riusciva intuiva che questo aveva a che vedere con le sue difficoltà in amore infatti sebbene vivesse liberamente le sue passioni etty non era mai riuscita a raggiungere quello che chiamava il grido liberatorio sapeva che cos'era l'appagamento ma non era ancora arrivata a quel punto di resa totale nel quale mente e corpo sciolti da ogni peso si fondono nel piacere etty aveva 26 anni quando i tedeschi occuparono i Paesi Bassi il 10 maggio 1940 colonne di uomini sfilarono con passo meccanico convinti che fosse maestoso per prima cosa in tutta Amsterdam furono affisse ordinanze contro gli ebrei la prima prevedeva l'obbligo di cucire la stella di David sui vestiti una mattina in fila fuori da una farmacia etty fu avvicinata da un passante tu puoi entrare lì dentro chiese l'uomo che aveva un aspetto distinto sì signore rispose etty a mezza voce dovrei acquistare delle aspirine l'uomo la fissò dovreste starvene tutti in un ghetto disse con il vostro pane alzimo e i vostri bilanzini per pesare l'oro detto questo si allontanò girandosi con disprezzo due o tre volte etty si guardò intorno nessuno sembrava essersi accorto di nulla uscì dalla fila e andò via era turbata dall'accaduto ma ancor più dagli occhi di quell'uomo erano sembrati deserti da ogni cosa eccetto che di una specie di vendicativa soddisfazione interi quartieri di Amsterdam vennero interdetti agli ebrei fu ordinato loro di consegnare le biciclette di non usare il tram e di non uscire di casa dopo le otto dei cartelli con la scritta vietato agli ebrei furono inchiodati sugli alberi dei giardini hai visto? sbottò Klaas una mattina spalancando la porta di etty ci vietano anche la natura quella mattina Klaas era andato al parco nuovo ma all'ingresso aveva trovato il divieto aveva pensato di entrare ugualmente visto che non c'erano tedeschi intorno ma nell'accorgersi di come lo guardavano i passanti aveva rinunciato sembravano spie tutti quanti etty era turbata ma non volle darlo a vedere possono agire su ciò che è al di fuori di noi Klaas ma non su quello che c'è dentro di noi lui parlò con voce sorda potrebbero deportarsi un giorno o l'altro etty andò alla finestra Klaas la seguì etty disse posandole le mani sulle spalle saremo tutti separati noi che ci vogliamo bene lei gli accarezzò il dorso di una mano prese un anemone rosso dal vaso sulla scrivania e se lo sistemò tra i capelli aprì i vetri l'aria sembrava fatta di luce nel cielo non c'era nemmeno una nuvola il lastricato della piazza era ancora umido di una pioggerella notturna e tra gli alberi del giardino si levavano i canti degli uccelli ascolta quanto è limpido il loro canto Klaas e questo profumo lo senti? etty aspirò l'odore delle piante e della pietra bagnata questa ti sembra un'aria di morte? Klaas ti permetterò di strapparmela etty pronunciò queste parole senza tono di sfida ma con dolcezza posò una mano sulla spalla dell'amico guarda il cielo Klaas guarda quanto è grande, vuoto puro Klaas non guardò il cielo ma etty non credeva ai propri occhi quella donna traboccava gioia una mattina etty era in fila per il pane dietro a due uomini che discutevano sommessamente si dice che dall'est non si torni non sono campi di concentramento ma di sterminio anche qui non scherzano ricordi il commesso della libreria cultura? sì quel giovanotto che suonava il mandolino che gli è successo? lo hanno fatto a pezzi etty pallidissima lasciò la fila canaglie pensava sconvolta popolo di canaglie si infilò in un vicolo con l'aria di chi cerchi il filo di un pensiero perduto vagò per la città ripensava al commesso ricordò l'evidente soddisfazione nell'accontentare i clienti la cura nell'incartare i volumi e la timida fretta con la quale incassava il denaro era un giovane serio, mite quali uomini avevano potuto ammazzarlo di botte? bruti nullità arrivata a casa corse in bagno e si chiuse dentro sedette sul bordo della vasca e scoppiò in singhiozzi si alzò di scatto e si lavò la faccia andò nella sua stanza aprì la finestra e respirò a pieni polmoni due tre volte guardò la città deserta ma se anche rimanesse un solo tedesco decente pensò quest'unico tedesco meriterebbe di essere difeso e grazie a lui lui non si avrebbe il diritto di riversare il proprio odio su un popolo intero si appoggiò al davanzale con tutto il suo peso come per riposarsi da una grande fatica arrivò il giorno in cui fu convocata dalla Gestapo l'ufficio era dominato da una foto di Adolf Hitler e da un manifesto con una svastica nera su fondo rosso fuori era nuvoloso e i vetri delle finestre lasciavano passare una luce lattiginosa sopra la scrivania da illucidata c'erano plichi di booster sulle quali spiccavano i lunghi francobolli della posta tedesca addossato alla parete c'era un casellario zeppo di fascicoli contrassegnati con etichette diverse ce n'erano di rosse rosa nere marroni viola gialle e di altri colori ancora Etty vide che sulla scrivania ce n'era uno con l'etichetta gialla nome e cognome Etty Hillesum l'ufficiale un giovanotto con la scriminatura di lato controllò la lista e senza nessuna luce negli occhi si sporse in avanti e la sua partire uno schiaffo Etty colpita in piano volto cadde per terra si rialzò subito e si rimise a sedere nome e cognome ripete l'ufficiale con voce atona Esther Hillesum quello spuntò il nome dalla lista aprì una cartelletta e vi inserì il foglio prese un grosso incartamento l'aprì e ne estrasse dei documenti timbrati e battuti a macchina infilò la stilografica nel taschino dell'uniforme trasse una scatolina dalla tasca laterale della giacca ne prese una caramella dura e con gesto lento e svagato la mise in bocca cominciò ad esaminare una nuova pratica leggeva sgranocchiando la caramella sembrava essersi dimenticato di Etty lei esultò intimamente esultò perché si accorse di non provare odio ma pena il minimo atomo di odio aggiunto a questo mondo pensò lo renderebbe ancora peggiore l'ufficiale mise un lungo sospiro profumato di mente con un gesto della mano fece portare via Etty mentre qualcun altro veniva introdotto nell'ufficio una sera Clas arrivò da lei con passo incerto chiese un bicchiere d'acqua venendo qui sono stato umiliato da un tedesco disse con sguardo sfuggente cos'è successo? mi ha tirato un manrovescio per strada davanti a tutti beve una lunga sorsata d'acqua e andò alla finestra lo ha fatto perché non mi era tolto il cappello al suo passaggio era un ragazzino Etty prese Clas per la mano e lo fece sedere caro per un'umiliazione si deve essere almeno in due colui che umilia e colui che si lascia umiliare gli accarezzò i capelli nella stanza regnava un silenzio perfetto alla strada non arrivava nemmeno un rumore come se la città fosse deserta in povera gente c'è un appello a non rassegnarsi alla prepotenza ricordi? disse Etty Clas fece cenno di no ne abbiamo parlato tante volte parlamene di nuovo allora Dostoyevsky era un lettore attento del Vangelo cominciò lei continuando ad accarezzargli i capelli ma non aveva mai capito il passo sul porgere l'altra guancia pensava che questo avrebbe favorito i prepotenti ma durante la detenzione in Siberia finalmente capì capì che in una società organizzata per deturpare gli uomini porgere l'altra guancia è l'unico modo per non farsi disumanizzare Etty sentì il respiro di Clas calmarsi a poco a poco lui le strinse una mano e con un sorriso che dovette costargli tutte le sue forze disse nei momenti difficili vedete Dostoyevsky non ce lo ripeti da sempre Etty sorrise e lo baciò tuttavia anche ad Etty capitava di vedere il mondo sprofondare nel buio succedeva all'improvviso come per un calo di pressione sentiva le forze crollare come sotto una mazzata non poteva prevedere questi attacchi bastava un particolare apparentemente insignificante per scatenarli una mattina tiepida e limpida era di ritorno dalla farmacia dove aveva fatto scorta di aspirine quando notò una biglia per terra era di vetro e risplendeva incastrata in una fessura fangosa dell'astrico sentì di improvviso mancarle le forze non siamo altro che botti vuote pensò appoggiata al muro botti vuote in cui si sciacqua la storia del mondo Etty cominciò a tenere un diario su consiglio del suo analista Julius Speer la prima volta che si incontrarono fu subito colpita dalla sua eleganza Speer indossava un doppio petto di lana color creme dal taschino spiccava un fazzoletto blu i pantaloni color torto rappresentavano una linea perfetta e le scarpe di cuoio mandavano delicati riflessi blunotte i capelli ondulati erano brizzolati il volto era sorridente ma concentrato senza cerimonie Speer appese il sopravvito di Etty all'attaccapanni e con un gesto le indicò la poltrona fu solo dopo che si furono seduti che alzò gli occhi su di lei a Etty sembrò che quello sguardo fosse carico di una quieta bramosia si sistemò nella poltrona e cominciò a parlare delle prime cose che le venivano in mente raccontò qualcosa di sé del suo lavoro di traduttrice ma le parole scorrevano senza capo né coda del resto per lei non aveva nessuna importanza quel che stava dicendo l'unica cosa che le interessava erano gli occhi attenti taciti e calmi di Speer sentì qualcosa entrarle nel sangue ebbe la sensazione che si stesse adempiendo un fato e sembrò di essere arrivata lì non per volontà propria ma per un supremo atto di volontà di Speer stesso dovete cominciare un lavoro di osservazione su voi stessa cominciò lui rompendo il flusso di parole di Etty dovrà essere un lavoro così profondo da arrivare alla sofferenza universale ma senza dimenticare la bellezza la vostra e quella del mondo Etty guardando di lato aveva chiesto come si può combattere e vincere il dolore dottore il dolore non va combattuto ma accettato Speer si alzò dalla sedia la vostra mano sinistra prego Etty gliela diede la mano di lei era fredda e sudata quella di Speer calda e morbida ecco vedete questa è la linea dell'amore voi Etty avete amore dentro di voi non potete immaginare quanto le lasciò la mano il problema è di natura spirituale dovete sciogliere il vostro blocco intimo Etty sentì il sangue affluire alle tempie dobbiamo sciogliere questo blocco continuò Speer portandosi sopra il tappeto al centro dello studio e per farlo possiamo cominciare dalla lotta Etty lo guardò Speer se ne stava lì davanti alto sensuale le braccia aperte in un invito avanti corpo e anima sono la stessa cosa un minuto dopo erano avvinghiati Speer profumava di acqua di colonia e di tabacco da pipa i suoi vestiti sapevano di fresco quando Etty si ritrovò addosso il torace dell'analista qualcosa si accesa in lei cominciò a lottare senza inibizioni con stupore di entrambi riuscì a mettere Speer con le spalle a terra basta così disse lui per qualche minuto restarono distesi l'uno accanto all'altro respirando forte si rassettarono in silenzio Speer andò alla scrivania prese cinque rose dal vaso e le avvolse in una pagina di giornale gliele diede il dolore non va combattuto ma accettato e aggiunse con uno sguardo vecchio di secoli vi siete mai genuflessa davanti a dio Etty nel tornare verso casa Etty superò le strade i canali e i ponti senza accorgersene chi era quest'uomo questo tedesco mezzo scienziato e mezzo sciamano questo dottore che seduceva le sue pazienti come aveva fatto a leggerle dentro in quel modo come si sentirà a vivere in queste due stanzette povere soffre per aver lasciato la Germania piange mai sa che cos'è la disperazione nel pregare si inginocchia ma prima di inginocchiarsi che cosa fa si sentiva eccitata come non l'era mai capitato un verso di Rilke la inseguiva e sentì stranamente uno straniero dire sono con te una sera di ritorno da una seduta si fermò davanti a dei Lillà Dio ha fatto il mondo a sua immagine e somiglianza pensò con gratitudine un momento dopo vide due SS tedesche passare a pochi metri da lei come possono coesistere tanta bellezza e atrocità si chiese tornò a casa guardò a lungo i libri la scrivania il vaso di margherita ma questa volta non servì andò in bagno si lavò con acqua gelida e si estraiò nuda sul pavimento ad asciugare restò lì ferma finché non si sentì di nuovo calma nulla è casuale pensò infine non siamo botti vuote ma campi di battaglia mi offro a questa battaglia si rialzò come aveva fatto tante altre volte ma ricadde in ginocchio mio Dio prendimi per mano disse in un soffio con le mani si coprì il viso non farò resistenza non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita cercherò di accettare tutto e nel modo migliore sentì la testa abbassarsi sempre più come se una mano ferma le premesse la nuca accetterò l'inquietudine e la lotta cercherò di non aver paura e dovunque mi troverò cercherò di irrazzare un po' di quell'amore per gli uomini che mi porto dentro ma concedimi un po' di pace avvertì qualcosa sciogliersi in basso sotto il diaframma sentì un grido acuto e breve uscire dalla sua gola si rialzò si fissò nello specchio e si spattolò a lungo i capelli mise del rossetto sulle labbra e uscì dal bagno andò alla scrivania tolse una rosa dal vaso e se la infilò dietro un orecchio aprì il diario e cominciò a scrivere Etty entrò come dattilografa nel consiglio ebraico un organo governativo in mano alla Wehrmacht questo le permise di entrare ed uscire dal campo di transito di Westerbork dal quale ogni martedì mattina partivano i convogli per l'est i sorveglianti del campo picchiavano chiunque si riferisse ai prigionieri come a uomini donne o bambini il sostantivo da usare era schmattes stracci Etty curava il suo abbigliamento si pettinava ogni giorno mettendosi un fiore tra i capelli ti stanno sterminando lo so class e tu pensi ai fiori nella vita c'è posto per tutto per una fede in Dio e per una misera morte come puoi anche solo accettare l'idea di un Dio in un'epoca come questa se Dio non mi aiuterà più sarò io ad aiutare Dio Dio non esiste e noi siamo come porci da scannare a sorte disse Klaas alzandosi e uscendo Etty lo chiamò ma lui sese le scale senza girarsi si buttò uno scialle sulle spalle e lo seguì in strada ma Klaas era sparito Etty si accorse di quanto il cielo fosse lattiginoso anche i vici dei passanti lo erano ogni cosa appariva squallida monotona i fiori del gelsomino galleggiavano in una pozzanghera melmosa risalì in casa sedette alla scrivania aprì il diario ne annusò le pagine ma in me il gelsomino continua a fiorire scrisse e come profuma mio dio i conoscenti anche gli amici cominciarono a sparire a uno a uno chi non voleva pensare che fossero stati arrestati e deportati si ripeteva che forse erano riusciti a espatriare o a nascondersi da qualche parte chi restava provava a vivere almeno una volta alla settimana Etty dava un piccolo ricevimento invitava qualche amico ognuno portava qualcosa chi tre o quattro biscotti chi il tè chi un po' di zucchero i loro discorsi erano d'arte e letteratura evitavano di discutere la situazione politica non c'è nulla da dirsi sull'argomento aveva detto qualcuno tutto è chiaro ed evidente come un cadavere su un lettino dell'obitorio nel settembre del 1943 Hugh Speer ricevette l'ordine di presentarsi a Westerbork ma morì il giorno precedente all'internamento sembrò a tutti che quell'uomo dalla personalità magica avesse volontariamente fermato il proprio cuore per sfuggire all'umiliazione della deportazione non appena lo seppe Etty fece una lunga passeggiata e si sedette sul bordo di un canale lui è parte di me il vuoto non mi entrerà dentro tutto va in pezzi ma il mondo andrà avanti e anch'io andrò avanti l'acqua scorreva limpida si tratta solo di totarsi di un genere nuovo di pazienza andò al capezzale di Speer sono contenta che la tua vita sia finita naturalmente amico caro ripensò a una delle loro ultime passeggiate insieme nella brughiera Klaas ha picchiato sua figlia aveva detto lei ti ha detto perché perché gli ha nascosto il cianuro che lui teneva in casa cianuro e dove ne ha trovato di questi tempi ad Amsterdam è più facile trovare veleno che verdura avevano camminato in silenzio raccogliendo pigne piccole e odorose a che cosa pensi Julius ai demoni che tormentano l'umanità Etty aveva ancora una volta ammirato quegli occhi calmi quella fronte che era un paesaggio antico dammi un bacio non demoniaco Julius si erano baciati Speer l'aveva guardata e questo cara sarebbe un bacio non demoniaco con i margini di movimento concessi dalla Wehrmacht al consiglio ebraico Etty avrebbe potuto tentare di salvarsi ma rifiutò sempre a Westerbork vide un soldato tedesco raccogliere dei fiori dietro il filo spinato dove fiorivano Narcisi Gerani e Margherita nel chinarsi il fucile a tracolla gli sbatteva nella schiena dietro di lui si alzava il fumo del treno diretto ad Auschwitz il martedì avevano caricato i vecchi del pensionato di Amsterdam e gli ospiti della casa dei ciechi quella mattina invece toccava ai pazienti del manicomio ebraico di Deventer tra loro avevano trovato anche molti sani di mente nascostisi lì nella speranza che i pazzi non venissero spediti all'est tra loro c'era una coppia distinta lui con giacca a quadri e un papillon giallo lei con un mantello di pellizza la signora aveva aperto il palmo della mano mostrando a Etty una capsula azzurra non possono farmi niente questi farabutti aveva detto facendo l'occhiolino Etty aveva riconosciuto il cianuro anche l'uomo aveva un'espressione soddisfatta quasi serena salirono sul vagone tenendosi per mano mentre il servizio d'ordine manganellava i pazzi seminudi era doloroso vedere quanto zelo gli ebrei del servizio d'ordine di Westerbork mettevano nel caricare i vagoni bestiame lo facevano per conservare la loro posizione lavorare nel servizio d'ordine garantiva se non altro di partire per ultimi quando sarà il mio turno pensava Etty troverò un angolino nella borsa per la Bibbia l'idiota di Dostoevsky e un volume di Rilke le mie impressioni rischiareranno come le stelle la notte mia e dei miei compagni di prigionia devo attingere alle forze più profonde sarò il cuore pensante della baracca qualche volta riusciva ancora a trascorrere una serata con Klaas stavano seduti vicini assaporavano ogni minuto parlavano del passato di letteratura ma infine lui arrivava sempre alle atrocità naziste è tuo dovere sottrarti alle grinfie di quei mostri Etty io non mi sento nelle grinfie di nessuno devi scappare se scappassi prenderebbero qualcun altro al posto mio ogni convoglio deve raggiungere un numero preciso ma tu devi sottrarti a questo destino che sono io per sottrarmi al destino di un popolo nel settembre del 1943 Etty fu deportata ad Auschwitz insieme alla madre al padre e ai due fratelli Mischa e Jaap nessuno di loro ritornò finita la guerra Klaas Smeilich entrò in camera di Etty e richiuse delicatamente la porta nulla era stato toccato tra le carte sulla scrivania c'erano un anemone rosso e cinque boccioli di rosa secchi tre piccole pigne e una pila di quaderni azzurri Klaas prese un quaderno e si avvicinò alla finestra oltre l'intrico dei rami in fiori il riechis museum dominava la piazza la gente passeggiava nella calura estiva i bambini giocavano rincorrendosi intorno agli alberi ogni tanto passava un'auto Klaas socchiuse i vetri per lasciare entrare il rumore della città e sedette sulla piccola sedia ricamata a mano che scricchiolò aprì il quaderno e vide che si trattava di un diario scritto con una grafia minuta e ordinata lo richiuse respirò a fondo lo riaprì e lesse dovrei forse fare una faccia triste o solenne sono forse triste no vorrei congiungere le mani e dire ragazzi sono così felice e riconoscente e trovo la vita così bella e ricca di significato proprio così e lo dico nel giorno della morte prematura del mio amico Julius Speer mentre io stessa posso essere deportata a ogni momento in una terra sconosciuta non dobbiamo dimenticare che siamo parte di qualcosa di più grande siamo negli avamposti di universo disseminati in tutto il mondo